Diego Genova, della pizzeria Natrizzera di Grigento. Allora, cosa ne pensi di questo strumento? Beh, sono... chiaramente noi dovremmo puntare sulla qualità, sulle cose più genuine, che chiaramente sono dei rani antichi. Sicuramente la cucina per riportare indietro alcuni sapori è una cosa buona, considerando che in Europa ci sono tutte queste cose con nuove farine, nuove cose. Cibi industriali. Cibi industriali, quindi sarebbe giusto ripensarci un pochino, ma adesso ci dovremmo pensare anche alla politica, di non fare importare olio che viene dalla Marocco, dalla Mosia, eccetera. Quindi dovremmo fare e diciamo che dovremmo cambiare una politica più tradizionale, anche regionale, visto che in Sicilia abbiamo tante cose che, diciamo, molte cose insomma che sono persi, anche alcuni grani, alcuni, insomma, molti cereali che si stanno perdendo, alcune sementi, insomma, che invece dovremmo recuperare queste cose sul biologico e sul... E appunto la Sicilia, grande granaio dell'antichità, cioè Diego, per favore, pensaci, passa all'antichità, passa ai grani antichi. Comunque grazie oggi, veramente grazie della tua abilità e della tua disponibilità. Grazie. Grazie Diego, grazie alla trissera Grigento. Ciao D'Archeo Cuisine. Ciao ciao.